Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il Tg10. L'apertura del notiziario oggi è dedicata alla inaugurazione della stanza tutta per sé all'interno della caserma del reparto territoriale dei Carabinieri di Gela dedicata alle donne che hanno subito violenze e maltrattamenti. Il nobile progetto è promosso dal Sor Optimist Club. Vediamo. Taglio del nastro questa mattina per la stanza tutta per sé presso la caserma di Mere, reparto territoriale dei Carabinieri di Gela guidato dal comandante Valerio Marra. Si tratta di un progetto promosso in ambito nazionale dal Sor Optimist International e fortemente voluto dalla sua presidente nazionale Leila Picco che avendo sottoscritto un protocollo di intesa con il comando generale dell'arma dei Carabinieri ha promosso la nascita di numerose stanze e molte caserme dell'arma. A Gela hanno lavorato lacrimente le socie del locale Sor Optimist Club preseduto da Maria Grazia Falconeri affinché anche nella città del Golfo potesse concretizzarsi il progetto che nasce dall'esigenza di creare un ambiente idoneo e accogliente in grado di garantire la massima riservatezza e la giusta tranquillità a donne traumatizzate dalle violenze subite vittime di maltrattamenti morali e fisici. Denunciare le violenze subite per molte donne spesso rappresenta un vero atto di coraggio ed essere ascoltate da personale sensibile in un ambiente idoneo può restituire fiducia, speranza e dignità ad esseri umani che ne sono stati privati. Il progetto della stanza e il design interno è stato curato dalla socia del Sor Optimist Club di Gela, l'architetto Marilena Rampanti. Si tratta di un progetto nazionale tra l'Arma dei Carabinieri e Sor Optimist Italia che mira a ricreare all'interno delle nostre caserme degli ambienti che possono favorire l'aumento di confidenza e l'abbassamento della tensione da parte di persone sottoposte a particolari tipi di violenza che sono particolarmente impattanti sulla psicologia del singolo, della persona, in particolare donne e minori. All'interno di questa sala e soprattutto troveranno accoglienza ma personale preparato e disposto a ben accoglierli e ad ascoltarli. La capacità di ascolto è importante e fondamentale anche nella ricostruzione degli eventi e di tutte le dinamiche criminali che stanno alla base delle condotte purtroppo violente di cui rimangono vittime le donne in Italia. Siamo a quasi 110 omicidi all'anno, femminicidi, e questo noi ci preoccupiamo in modo particolare. Donne che vengono anche in caserma accompagnate dai bambini piccoli perché le violenze avvengono davanti ai minori. Si è creato un protocollo di intesa con l'arma dei carabinieri a livello di ministero e di questo noi ringraziamo tutto il Soroptimist e ringraziamo l'arma dei carabinieri. Il nostro supporto è quello di aver creato e poi ritengo che un po' monitoreremo, vedremo, cioè man mano, cioè come e come andrà perché sono convinta che appunto forse denunceranno meglio le donne trovandosi nell'ambiente, nella stanza che non ha niente di una stanza, diciamo, sembra una stanza così di casa può essere accogliente, ecco. Molte le personalità presenti questa mattina al taglio del nastro della nuova aula per le audizioni, quindi una stanza tutta per sé, sentiamo. L'ascolto è un momento fondamentale nell'ambito della repressione poi successiva di questi reati. Le donne o anche i minori hanno bisogno di essere sentiti, di essere sentiti in un ambiente come quello che abbiamo visto, particolarmente che ricrea quasi una stanza di casa e non dà l'esempio di un freddo ufficio dove semplicemente andare a fare una denuncia mi sembra un aspetto di grande civiltà, di grande avanzamento proprio per aiutare e supportare tutti coloro che subiscono violenza e che devono assolutamente ribellarsi. Noi tra l'altro come prefettura ora a breve stipuleremo anche un protocollo con i centri anti-violenza e con l'associazionismo di Caltanissetta proprio per favorire questo sistema di denuncia, per aiutare, le donne vanno aiutate, i minori vanno aiutati, la violenza va sconfitta, senz'altro. Lo Stato è assolutamente presente attraverso queste iniziative, non solo attraverso le norme e tante ce ne sono in questi ultimi anni in favore e a tutela della libertà delle donne quindi bisogna sicuramente ricordare con plauso queste iniziative legislative ma dall'altro lato cominciano adesso anche a realizzarsi gli strumenti per far entrare nella cultura e nella testa e nell'anima degli uomini e delle donne l'opportunità che lo Stato offre. E non c'è solo lo Stato oggi in questa iniziativa, o meglio c'è quella parte dello Stato che non è l'istituzione soltanto perché questa è un'iniziativa che nasce da un'associazione, nasce dal volontariato, nasce da un gruppo di persone che si sono riunite per organizzare un servizio in favore di tutta la collettività. Questo è lo Stato, questa è la plastica definizione del modo di rappresentare lo Stato che non è solo l'istituzione, arma dei carabinieri, procura o prefettura ma nasce dal basso, nasce da quella considerazione che viene da quelle iniziative e dagli stimoli che vengono dal volontariato e dall'associazionismo. Tra gli altri ha espresso soddisfazione anche il presidente dell'assise civica di Gela Alessandra Ascia che ha definito la nuova stanza come una conquista per tutta la città. Ogni donna che entrerà in quel luogo rappresenterà una vittoria per se stessa ma soprattutto per l'intera comunità gelese. Ha commentato il presidente del Consiglio Comunale le cornici vuote appese alle pareti si riempiranno di volti di donne coraggiose che avranno una nuova speranza per riempire il loro animo ferito. Cambiamo argomento. Nel pomeriggio di ieri un furgone si è ribaltato lungo la 117 bis quasi all'ingresso della città. Il mezzo da lavoro ha impattato contro una BMW finendo la corsa lungo il margine della carreggiata ribaltandosi. Il conducente avrebbe riportato ferite non gravi sul posto a prestare primi soccorsi. Sono arrivati i vigilantes della sicurezza e il personale del servizio 118. Avviati i lavori dell'appalto Gela Ovest. Interruzione solo per oggi per consentire l'attività del mercato settimanale. Vediamo. Scarificazione, bitumatura e segnaletica orizzontale sono gli interventi previsti dall'appalto denominato Gela Ovest i cui lavori sono partiti ieri mattina. Il progetto riguarda circa due chilometri di strade di pertinenza comunale all'ingresso occidentale della città verso Manfria ed è stato aggiudicato dall'Urega per un milione di euro a due ditte di Gela e Palermo. Iniziamo a fare la manutenzione sulle strade poste a dovest della città. A breve inizieremo anche in questa stessa settimana i lavori della zona est, soprattutto quindi l'ingresso di Gela dalla parte di Vittoria. Ci dispiace per i problemi, i fastidi che daranno questi lavori per la viabilità, però credo che sono importanti per ridare al manto stradale quella sicurezza di cui abbiamo bisogno. È una strada che è percorsa da tantissime autovetture, considerate solo ieri la fila partiva da Manfria fino a qui quindi è chiaro che è un intervento molto importante, devo dire anche finalmente perché aspettiamo da qualche mese però siamo riusciti ad iniziare. Come vedete stiamo operando solo su una corsia per adesso in modo tale che evitiamo di bloccare il traffico e si proseguirà poi sulla via Venezia e su altre vie limitrofe come la via Mattei. Soltanto per oggi, giorno del mercato settimanale a Marchitello, i lavori sono sospesi. Già in settimana potrebbero essere aperti anche i cantieri di un altro maxi appalto, quello relativo a Gela Est che interessa le arterie all'uscita per Vittoria. L'amministrazione comunale in concomitanza con la stagione estiva concordato con Pintaudi Autolinea e l'istituzione di tre corse di bus per collegare il centro urbano a Manfria ogni domenica e nei festivi oltre al servizio già attivo periferiali da Gela verso Manfria. Le partenze sono previste dalla stazione centrale che è capolinea alle 8, alle 13 e 30 e alle 18 e 30. Le corse di ritorno sono invece fissate da Piana Marina alle 8 e 45, alle 14 e 15 e alle 19 e 15. Un'interrogazione al sindaco Domenico Messinesi e all'assessore al ramo per chiarimenti su tematiche che riguardano la pulizia e il decoro urbano. A proporle il consigliere comunale Sara Bonura. L'abbiamo sentita. Consigliere Bonura, lei ha presentato una interrogazione su alcune tematiche che stanno molto a cuore alla cittadinanza quali la pulizia, il lavaggio e la sanificazione delle strade, dei marciapiedi, dei parchi, delle aree verdi e delle aree condominali. Quali sono i punti principali che emergono in questo documento che ha depositato? La mia interrogazione è volta principalmente a far emergere la sporcizia purtroppo e i cattivi odori che si evidenziano e sono abbastanza rilevanti mentre si circola nella nostra città. Pertanto ho presentato un'interrogazione affinché appunto il sindaco provveda a vigilare soprattutto sull'operato di chi svolge questo lavoro e oltre questo a provvedere al lavaggio e allo spazzamento e alla sanificazione delle nostre strade, dei marciapiedi, nonché delle aree verdi e delle aree pubbliche perché risultano in totale degrado. Inoltre consigliere, lei punta l'accento su degli sgravi che riguardano Tari e Tasi. Chiedo all'amministrazione di fare un regolamento appunto per coinvolgere e responsabilizzare i cittadini volenterosi che provvedono al lavaggio e allo spazzamento dei marciapiedi delle proprie abitazioni e anche provvedono alle strade limitrofi ai propri immobili. Pertanto chiedo che a questi cittadini volenterosi gli vengano fatti degli sgravi sulla Tari e anche sulla Tasi nel caso in cui si dedichino ai giardini che si trovano vicino le proprie abitazioni. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo tra poco, restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Si terrà nei prossimi 27, 28 e 29 luglio il corso di formazione di primo e secondo livello rivolte volontari delle associazioni aderenti al Coresa, il coordinamento regionale e sanità. L'evento è organizzato da Pubblica Assistenza Procivis, protezione civile di Igella in collaborazione con l'assessorato alla salute della regione siciliana e si terrà nei locali di via Ossidiana. al numero 23. Gli interessati possono inviare il proprio nominativo e la propria adesione entro e non oltre mercoledì 20 luglio all'indirizzo di posta elettronica email p.a.procivis.chiocciolatiscali.it, sede dell'ufficio coordinamento provinciale di Caltanissetta. Presso la Procivis al corso possono partecipare tutti i soggetti che hanno già compiuto la maggiore età. Concluso con successo lo stage di alternanza scuola-lavoro per due classi dell'Istituto Turistico Luigi Sturzo di Gela diretto da Grazio Di Bartolo presso la nostra emittente televisiva. Gli studenti hanno potuto sperimentare effettivamente come si lavora nell'ambito della comunicazione con particolare riferimento all'attuale situazione economico-sociale della nostra città e alle prospettive di sviluppo alternative alla produzione di carburante. Hanno partecipato a conferenze stampa, capito come si realizza un telegiornale ed espresse il loro contributo di idee ed opinioni. Hanno incontrato personalità provenienti da diversi ambiti professionali come il giornalismo, la cultura, la politica, la musica e anche gli studenti dell'Università di Berlino. L'attività di alternanza scuola-lavoro è coordinata dalla professoressa Clelia Muzzicato. Ricorderemo questi due incontri che abbiamo avuto con voi che sono stati abbastanza interessanti perché comunque ci hanno parlato di cose che ci riguardano appunto su proposte per incentivare il turismo nel nostro territorio che personalmente questa è una cosa che mi interessa perché appunto il turismo è nelle nostre mani noi dobbiamo cercare di incentivare il turismo il più possibile. Quali potrebbero essere le prospettive di sviluppo per questa città? Il fatto comunque di incentivare appunto il turismo cercare di appunto fare delle novità per attirare il turismo nella nostra città visto che comunque non abbiamo molta presenza turistica attraverso magari social network cercare di creare qualche evento magari nelle piazze questa alternanza ci ha fatto capire i punti più importanti di Gela e sì saremo in grado comunque di seguire e indirizzare un gruppo nella nostra città. Da quest'anno nelle scuole per le terze classi c'è un'opportunità in più l'alternanza scuola-lavoro che tipo di progetti state portando avanti? Allora noi per il turistico abbiamo portato avanti un progetto insieme ai dirigenti del museo che ci ha fatto comprendere l'importanza della nostra città soprattutto per quanto riguarda quelli che sono i nostri reperti storici e anche la bellezza paesaggistica del nostro territorio e come noi potremmo proporre in futuro il nostro territorio ad altri possiamo dire non solo in Italia ma anche nel mondo. L'associazione sportiva dilettantistica a Mogela organizza il primo memorial Emanuele Giuseppe Alabiso la competizione si terrà presso la struttura sportiva di Viale Enrico Mattei il torneo è organizzato appunto dalla Mogela società che è stata presieduta dal dottore Giuseppe Alabiso fino alla tragica scomparsa del novembre scorso e in cui è cresciuto il figlio Emanuele che ha militato nelle categorie della scuola calcio e del settore giovanile. Il memorial si concluderà ad agosto. Anche quest'anno la piazza Garibaldi è stata la cornice del rally città di Caltanissetta quarta prova del campionato regionale zona Sicilia e trofeo rally Sicilia un'edizione, la quattordicesima per l'esattezza che ha visto i piloti gareggiare durante le ore notturne proprio in centro il pubblico di Nissenia non solo ha potuto conoscere le vetture insieme ai rispettivi piloti veri protagonisti di una gara vincente che ha visto trionfare ancora una volta gli agrigentini Maurizio Mirabile e Michele Calderone su Skoda Fabia e Super 2000 Già la prima è stata un'emozione meravigliosa la seconda qualcosa di irripetibile non ce l'aspettavamo quest'anno veramente perché non c'erano tantissimi iscritti però i Nisseni vanno sempre forti quindi per noi è stata un'emozione veramente irripetibile è qualcosa di meraviglioso sfiora la vittoria per un imprevisto il duonisseno composto da Roberto Lombardo e Alessio Spiteri su Renoplio Williams che li ha portati a salire sul podio con un secondo posto ma primi di classe a 7 vincendo 5 prove su 9 è stata una gara molto complicata abbiamo vinto quasi tutte le prove speciali però purtroppo per una foratura c'è stato il ritiro della prova speciale quindi siamo usciti di seconda su di RL terzo posto invece per il musso melese Gaspare Corbetto il nisseno Salvatore Cancemi su Peugeot 106 è stata una gara bellissima rivali molto forti non ci aspettavamo questo bellissimo risultato è finita bene siamo andati in verifica tutto ok ringrazio tutte le persone che erano in strada a tifare per noi rientrano nella top 10 al quarto posto la coppia di Franco Spanò su Renault Clio quinto posto per Pilato Cusimano con Peugeot 106 Max sesta la Peugeot 106 kit di Fonti Giglio settimo classificato il duo Burrogano ottavo il duo Gioè tutte e due le coppie su Renault Clio nono posto per la Fiat Punto di Amendolia e Villari e decimo per la Peugeot 106 di Gutilla Arena tra le auto storiche si sono distinte nel terzo raggruppamento classe GTS oltre 2000 la Porsche 911 SC del corleonese Antonio Di Lorenzo e Francesco Cardella il terzo raggruppamento GTS 1006 viene firmato dagli agrigentini Red Devil e Sergio Raccuia su Fiat X19 per il quarto raggruppamento Natal Mirabile Giuseppe Crimi su Fiat Ritmo Abarth 130 per il secondo raggruppamento il duo Gianfilippo Quintino e Salvatore Vinci Guerra con Alfa Romeo GTV e infine per il primo raggruppamento la Fiat 850 Special con Francesco Ferreri e Francesco Sarrica La Divina Commediole è lo spettacolo di Giobbe Covatta che andrà in scena sabato 30 luglio prossima alle 21.30 al Teatro Antidoto di Gela la manifestazione rientra nel cartellone estivo dell'arena all'aperto e il biglietto costerà 10 euro con lo spettacolo è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale grazie a tutti voi per aver scelto anche oggi la nostra informazione arrivederci a domani grazie a tutti